3, 2, 1... Ci aspettano, perciò seguimi. Ho una notizia bomba. Ok. Sarà l'estate più fresca. Fioriti forte! Più avventurosa. Oh, sì! E' incredibile. Pac-Man è uno dei cattivi. Della vostra vita. Che me lo immagino. Tornerò. Cosa? Arriva! I più grandi film. Venite. I più grandi attori. Siamo fichissimi. Restano con voi. Può ripetere? E vi aspettano al cinema. E che c'ho? E' nato, sei pronto? Bang. Il grande cinema non va in vacanza. Scopri tutti i film su estatealcinema.it e che c'è qui 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 c'è Grazie a tutti.